Sono molto ramaricato per come abbiamo chiuso la stagione, ma questo non deve cancellare quello che abbiamo fatto durante quest'anno. La favola audace Cerignola era sulla bocca di tutti. Ripartiamo con la stessa voglia e la stessa umiltà. Tutti insieme, il futuro dell'audace è ancora da scrivere in questi giorni di confronti tra la dirigenza, il DS Elio Di Toro e l'allenatore Michele Pazienza, con l'avvio della programmazione per l'annata 2023-2024 e già qui lo assicura Miguel Angel, Sainz Mazza, uno dei protagonisti della stagione del ritorno tra i pro dei giallo-blu. Arrivato a Cerignola nell'estate del 2022 dal gubbio, il centrocampista spagnolo ha scelto Instagram per tracciare un bilancio di fine stagione. Quando ho ricevuto la chiamata dell'audace spiega in cuor mio sapevo di fare la scelta giusta, anche se molti mi dicevano di lasciar stare, io ho dato ragione all'istinto. Oggi, col senno di poi, posso dire ad alta voce di aver avuto ragione, in un anno oltre ogni aspettativa, che senza tasselli importanti come staff, società, tifosi e un grande gruppo, non avremmo potuto fare. Sono molto rammaricato per come abbiamo chiuso la stagione, ma questo non deve cancellare quello che abbiamo fatto. Un messaggio che ha suscitato un'ondata di like e anche commenti pieni di gratitudine, con ironia, come quello del compagno di squadra e reparto Cristian Langella, che chiede quanto ti dobbiamo per gli insegnamenti sul campo di quest'anno. Quella appena lasciata alle spalle per il trentenne che da ragazzino rubava l'occhio tra i talenti delle giovanili del Barcellona, come Luis Alberto, Sergi Roberto e Rafinha, è stata la stagione del ritorno in Puglia, dove aveva già giocato per tre anni con il Foggia. Ha chiuso l'annata con 37 presenze tra regular season e playoff, 5 reti e 3 assist. Tre dei suoi centri sono maturati proprio negli spareggi promozione. Segno distintivo di chi si esalta quando c'è da giocare, partite che contano. Lo ha fatto a Pisa, Pordenone e appunto Foggia. La domanda che tanti si sono posti vedendolo giocare e colpire i portieri con calci di punizione precisi è ma perché si è ancora in Serie C? Miguel ha sempre incassato e messo da parte, badando ai complimenti e non al rammarico che il lecito interrogativo può suscitare. Sui social ha già spiegato di voler far parte del Cerignola che verrà, suonando la carica in vista della prossima stagione, pronto a restare al centro del progetto sul campo e a dimostrare ancora agli altri e a se stesso di aver fatto la scelta giusta.